Come costituire una soggettività all'altezza di questa fenomenologia così danzante, così multiforme, così prismatica? Cioè come costruire una risposta, un meccanismo di resistenza, un dispositivo di resistenza? Diceva prima il professor Iacono che ciò che lo ha allontanato, lo allontana tuttora dai francesi, da quella scuola, da quello frammento, cioè da quella scuola, perché poi esistono altre scuole, è il loro limite di una risposta esclusivamente, di una resistenza esclusivamente individuale. Quando il Capitale, nel famoso che stamani il professor Palano ricordava i Grundrisse, il famoso frammento sulle macchine, Marx profeticamente prima ancora che tutto questo si palesasse, fosse sotto i nostri occhi appunto, si spettacolarizzasse, vedeva la forma dominante del capitalismo contemporaneo, come forma dominante del capitalismo contemporaneo quella del general intellect, intelletto generale. Da una parte c'è la generalità, la cooperazione, la condivisione della produzione, dall'altra c'è una componente cognitiva, intellettuale, sempre più, sempre più, sempre più pressante. È vero che poi la materialità della produzione, i livelli bassi, bassi, basici, elementari, vengono demandati, come si diceva prima Singapore, Malesia, Cina, Ceylon. L'elemento però progettuale, l'elemento cooperativo è globale, è mondiale. Infatti qualcuno ha parlato non più di dominanza del proletariato, ma dominanza del cognitariato. Cioè oggi lo sfruttamento, oltre ad essere ancora robustamente, brutalmente materiale sui corpi vivi delle persone, è uno sfruttamento della componente immateriale del lavoro, quindi della progettazione delle competenze, lo dicevo ieri, che noi stessi portiamo nel meccanismo produttivo inconsapevolmente, quindi portando valore e ricchezza che aggiungiamo inconsapevolmente, proprio per la natura collettiva della produzione al prodotto, e questo complica ancora più le cose, spettacolarizzandole le complica ancora di più. La domanda che volevo fare al professore, alla luce anche della sua storia politica ed intellettuale, ma nel momento in cui il capitale diventa veramente un rapporto sociale, nel senso che lo sfruttamento è talmente globale, mi sembra, lo dicevamo ieri sera, che forse possiamo escludere, che ne so, cento amministratori delegati di multinazionali, ma anche loro sono sfruttati, quando lo sfruttamento è integrale di tutti, dalla testa ai piedi, financo dei nostri dispositivi interiori, dei nostri meccanismi di pensiero, quando, se vogliamo, la massa in sé, la massa oggettiva dello sfruttamento è globale, totale, integrale, nessuno più vi sfugge. Perché continuiamo a cercare una risposta, una resistenza puramente individuale? Perché stentiamo a maturare questa coscienza, non chiamiamola più di classica, chiamiamola di specie, perché ormai, diciamo, in ballo, in gioco c'è la nostra esistenza, la nostra sopravvivenza su questo pianeta, dello stesso pianeta come specie. Cos'è che non fa più scattare il passaggio dalla condizione oggettiva di sfruttamento alla consapevolezza dell'essere sfruttati e quindi ad una risposta politica e quindi alla collaborazione mondiale e planetaria degli sfruttati? Io legandomi anche a quella che è la tendenza degli ultimi anni del capitalismo, ovvero quella di sostituire anche il denaro, nel senso, con la carta di credito, quindi non avere più il denaro in mano ma comprare quasi senza vedere, senza avere la percezione dello scambio effettivo, come c'era una volta, del resto anche banalmente così. E ancora di più, esagerando, c'è una cosa che secondo me è quasi paradossale, che si può notare, in questi ultimi mesi c'è un nuovo mercato che è quello su Instagram di comprare i followers, c'è un... abbiamo proprio uno scambio di questo tipo, di fronte a uno schermo si compra qualcosa che non esiste perché i followers sono bot, usando una carta di credito quindi senza denaro, quindi proprio abbiamo rimosso tutti gli elementi che sono quelli dello scambio normale, ovvero il denaro che è olografico, quello che compriamo che è un'immagine, compriamo immagine, apparenza e addirittura quello che compriamo i follower non sono nemmeno più il frutto di un processo produttivo perché sono bot, quindi sono appunto queste, non so precisamente cosa siano, comunque questi falsi account comunque che aggiungono un numero ai tuoi follower su Instagram. Quindi la mia questione è questa, siamo di fronte a una deriva ulteriore del feticismo, una deriva olografica addirittura di questo feticismo, nel senso che la rimozione totale addirittura della merce materiale che si costituisce addirittura come immagine, questa era la questione. Ma l'uomo la cerca la felicità? È veramente sfruttato quando lavora? O la sua retribuzione fa parte dei costi e permette all'azienda comunque di fare profitto? Il profitto non è una cosa positiva? Io non direi che non ci sia resistenza collettiva, poi se uno guarda nel mondo non è proprio così. Quello che manca secondo me è un passaggio ulteriore che dalla resistenza collettiva va a una soggettività collettiva forse. Se uno lo guarda con occhio storico non c'è da meravigliarsi, nel senso che ci sono stati dei grossi mutamenti. Nel movimento operaio tradizionale c'è sempre stata un'idea che era quella della dimensione internazionale, infatti non a caso si facevano le internazionali, cioè non aveva senso fare delle lotte nazionali o specifiche senza guardare all'organizzazione internazionale. da Marx a tutti gli altri, anche quelli che erano nemici di Marx, che litigavano da pazzi, non hanno mai avuto dubbi sul fatto che... ci hanno speso la vita per cercare di organizzare e non era all'epoca di oggi, era molto complicato, estremamente complicato mettere insieme, perché c'è un motivo, ci sono vari motivi, uno dei motivi è che il capitale in quanto tale si muove a livello globale, cioè oggi la globalizzazione di oggi è l'estrema conseguenza di un meccanismo che c'è sempre stato nel capitale, non è che sia una novità in sé, perché il capitale è un processo, non sono persone soltanto, è un meccanismo, è un processo che ha bisogno continuamente di spostarsi, di innovare. Oltretutto lo stesso Marx dice che ciò che differenzia il sistema capitalistico dagli altri sistemi precedenti è il suo carattere rivoluzionario, attenzione, perché rivoluziona continuamente la sua base tecnica ed è esattamente questo che produce, e questo è il punto, uno dei punti anche rispetto alla terza domanda, che produce da un lato innovazione, dall'altra però getta continuamente, dice lui, nell'olocausto, nell'ansia, nella tragedia, milioni di persone perché nel mutamento continuo del capitale alla ricerca del profitto si macinano un milione di persone, è ancora così, questo è il punto. Il profitto in sé non va bene se è basato sul sangue degli altri, e questa è la cosa fondamentale. Il capitale è di qualcuno? No, non è così, mi perdoni, ma questo nessuno lo dice, il capitale non è di qualcuno, il capitale è un processo dentro il quale dei singoli poi possono essere bravi, giusti, sbagliati, ma questo non lo dice, non è di qualcuno, non è che sono dei singoli, cioè io non credo molto, è vero che c'è oggi un'elite che si riunisce e organizza le cose e c'è un restringimento molto potente. Però il meccanismo non è un meccanismo, loro lo governano, ma governano un meccanismo che comunque non si fa del tutto governare da loro, altrimenti non ci sarebbero le crisi, non ci sarebbero gli smottamenti, non ci sarebbero le guerre. Le guerre non sono solo il frutto della malignità di qualcuno, è che si arriva a un certo punto a una dimensione tale per cui per l'accaperramento dei territori si arriva a dei conflitti. La questione, come nelle cose della storia, non è solo legata alla volontà dei singoli individui, storicamente almeno io la vedo così tradizionalmente, è legata anche ovviamente alla volontà, questo è chiaro, Napoleone è stato Napoleone, sia ben chiaro, e Napoleone è una figura paradossale perché Napoleone è stato un dittatore, è stato anche quello che ha tolto i ghetti ebrei, quindi voglio dire, la storia è fatta di contraddizioni, non è così ovvio, però esistono anche dei meccanismi che vanno oltre gli individui, gli individui si iscrivono, modificano certi meccanismi ma non sono assoluti, quindi la questione è estremamente, per questo c'è il problema della storia, diciamo, che va intesa anche in questi termini, e che si è un po' persa a mio parere, perché un po' andrebbe vista alcune cose. Ford è un grande innovatore, però il capitalismo non è solo Ford, sono meccanismi che si sviluppano, per esempio, una cosa tipica del sistema capitalistico non è solo il fatto che si innova tecnologicamente, ma il fatto è che innovandosi tecnologicamente rimette in luce forme di lavoro che erano addirittura arcaiche, per esempio è ritornato moltissimo il lavoro a domicilio, non a caso, cioè è un modello sistemico fondamentalmente, che lo spiega un pochettino meglio, ecco, ha un mutamento del sistema capitalistico, tale per cui quello che non c'è più oggi rispetto ai tempi, se volete, di Marx, ma fino a 50 anni fa, anche meno forse, il sistema produttivo non funziona più agglomerando individui in un posto, quindi questo diventa più che un problema produttivo, che è un cambiamento, ma produttivamente non è che le produzioni avvengono in una maniera, l'automazione ti permette appunto di ridislocare il livello cooperativo in vari posti. Il grande problema è che finito questo, non ha avuto più ragione di essere una forma politica, una forma partito, che era quella tradizionale che si collegava a una dimensione città-campagna, che era costruita sulle grandi fabbriche e su un ripensamento, abbandono ripensamento della campagna. Oggi le cose non stanno più tanto così, per cui il tipo di globalizzazione, per esempio, l'internazionale è importante, è però diversa adesso. Come fai a organizzare tutte queste persone che sono disseminate? questa è la prima cosa. A questo corrisponde, secondo me, una crisi della democrazia, perché finiti i partiti tradizionali, giusto o sbagliato che sia, adesso per me è un giudizio storico, non è che devo esserci, però i partiti avevano un sistema procedurale di organizzazione del consenso che è completamente saltato. Ma non solo la sinistra, tutti i partiti erano fatti così, è completamente saltato, perché corrispondevano a un certo dato a un tipo di società. Oggi questo è totalmente saltato, non c'è più. Oggi non siamo andati avanti, secondo me siamo arcaicizzati fortemente, perché oggi quello che conta era il leader amato o non amato. c'è una forte differenza. Oggi i leader durano pochissimo, perché si bruciano, perché questa è una delle forme di regenerazione del sistema democratico, però è questo il punto. E quindi si pone un problema di mutamento anche della democrazia, perché oggi si pensa che la democrazia sia fondamentalmente costruita sul consenso, e il consenso è proprio coloro che loro prendono via Twitter, via Instagram, eccetera. Sì, la faccio veloce, però, insomma, si vede ora nei conflitti. Ma la democrazia non può essere basata sul consenso. Questo è un equivoco. La democrazia è democrazia se ci sono livelli regolativi che garantiscono la giustizia e le minoranze. Perché se no si trasforma in una tirannia che non è detto che sia di un singolo, può essere anche di una maggioranza. È un vecchio tema che risale alla Repubblica di Platone. La democrazia è l'utile del più forte, ma il più forte può essere la maggioranza. Allora, oggi, questa insofferenza di chi ha consenso è pericolosa da questo punto di vista. È un vecchio tema, non è una novità. Perché la divisione dei poteri è una questione sempre messa in discussione. Però guai a pensare che tutto dipenda dal consenso. Perché se dovessimo metterci in questa linea, a parte il ritorno arcaico al liderismo di oggi, che è del tipo acclamazione, referendario, legittimazione, non c'è più. Ma forse andremmo in una linea molto inquietante. Perché se noi dobbiamo stabilire chi sono nel top ten di coloro che avevano consenso, dovremmo mettere al primo posto Hitler, secondo Mussolini, dovremmo mettere nel consenso coloro che hanno crocevisto Cristo e hanno condenato Socrate. Cioè, arriveremmo a paradossi terrificanti. Perché Socrate è stato condannato da una democrazia. E Cristo è stato messo in croce da un referendum che ha applicato l'autodeterminazione delle nazioni secondo il principio romano. Il lavarsi le mani di Ponzio Pilato era questo. Cioè, il fatto che poi hanno votato. Quindi è complicata la cosa. C'è anche il consenso elaborato da lontano. Il consenso si lavora attraverso la situazione. Sì, è attraverso quello che è stato detto. Diceva anche lui l'introiezione di un modello. Ma quello è pericoloso. Perché è come quando si dice che una donna è stata violentata e però c'era consenso. Oggi nessuno più dice che siccome c'era consenso bisogna vedere se era un consenso quartato. È molto complessa la faccenda. Molto complessa. E andrebbe giustamente affrontata seriamente invece di affrontarla in modo superficiale. Ecco, questi sono dei punti a mio parere perché se uno vuole pensare a delle organizzazioni politiche un po' diverse da quelle che ci sono ora, tutte basate sul liderismo fondamentalmente, penso che bisognerebbe aprire un po' la discussione. Penso che andrebbe fatta. Sulla felicità non le posso rispondere. Il mio compito filosofico è quello di avere un atteggiamento credo critico e non di dare formule. Quindi non le posso, non le voglio rispondere. Sarebbe una bellissima discussione e non voglio negare questo. Però l'ultima cosa che farei è dare una formuletta su una cosa di questo genere, nemmeno con pistola puntata dietro. Ecco perché è una cosa bella. L'ultima cosa, sulle carte di credito. Sì, oggi molti lo analizzano. C'è il famoso, tra l'altro non sono le carte di credito, c'è il credito fittizio. Il problema delle banche è il credito fittizio. Oggi tutto è una fiction. Nel senso vero la parola fiction è finzione ma nel senso letterale significa figurare, plastificale, formare qualcosa. Quindi c'è questa dimensione che è una dimensione che si chiama immateriale. Però il fittizio è derivato dal fatto che tu dai un impegno sul futuro, sul tempo futuro, che non è un referente. Proprio questo è il punto. L'assenza di referente. Ecco perché per me è importante il problema del referente. Perché spesso le crisi si arriva esattamente perché si gioca su questo terreno del fittizio, il credito fittizio. Tu investi perché qualcuno ti dà un credito che non hai. Forse uno ti riesce, l'altro no. E poi si hanno disastri e pagano pegno. Il problema delle carte di credito, in questo caso dell'immateriale, prima cosa è se qualcuno ha problemi e deve andare in clandestinità, gli consiglio di buttare via la carta di credito e il telefonino. Perché ormai noi siamo controllati a livello totale. Quindi è un problema serio questo. Scherzavo però è una questione seria rispetto al controllo. Perché sai, nei gialli è bello che la polizia vede il delinquente, però è un controllo che, al di là della criminalità, è un problema di democrazia. Infatti c'è un interesse e un'inquietudine in una cosa di questo genere. Però, attenzione, la carta di credito è immateriale nel senso che non si tocca più il denaro. Ma non è che la materia è scomparsa, non facciamo equivoci. Questo qui è di materia. Il computer è materiale. Tutto ciò che noi usiamo è materiale. Noi siamo corpi. Cioè l'immateriale non riguarda il fatto che sparisce la materia e quindi il referente. Riguarda il fatto che stai acquisendo dei processi che sono diversi, che hanno referenti che sono diversi rispetto ai referenti tradizionali. Perché il denaro, sì, è un elemento di materialità, ma la caratteristica del denaro è una materialità che determina un simbolico, che è quello di essere un equivalente generale, una potenza assoluta. Anche se togli la carta, prima c'era l'oro che era il referente, poi è stato tolto e c'è la carta. Adesso è online. Ma il vero problema è il referente, che può essere l'oro ma può essere un dato economico, cioè l'aggancio rispetto al bilancio. Non il fatto che siamo passati dal fatto che non c'è la carta e c'è la carta. Anche la carta di credito è materiale, in fondo. Comunque sia la devi usare. Cioè non si elimita, non ha ragione Baudrillard, che ha comunque il gusto del paradosso, del radicale a tutti i costi. È anche interessante da questo punto di vista. Cambiano le forme di materialità e di immaterialità e la relazione, ma non è che sparisce. Noi comunque siamo corpi. Siamo corpi, non siamo... E quindi certo che c'è un problema. Sta diventando un problema giuridico. I dati che noi diamo fanno parte della persona o sono una cosa? Oggi mi ha telefonato ieri una giovane dottoranda di giurisprudenza che ha un problema teorico nella sua tesi di dottorato proprio rispetto a questo dato qua. È un bene cosa o un bene persona? I tuoi dati. Li puoi alienare? Te li possono levare? Ci sono dubbi trementi in giurisprudenza su questo e perché è all'ordine del giorno. Forse di queste cose bisognerebbe un po' discutere sul serio e non lasciarlo solo agli esperti. Perché oggi anche questo è uno dei grandi limiti. Ci sarebbero questi esperti che poi non si capisce bene che cosa fanno, che ci spiegano non si capisce bene cosa. E si vede da come si gestisce il bilancio, da come stanno le cose e da come noi non riusciamo a uscire dall'ansia nonostante le rassicurazioni. Perché ogni volta che leggi il bilancio, le incertezze, i punti di vista diversi, dove li pigli i soldi, non lo sai esattamente. Questo è un segno che non può che crearti ovviamente inquietudine. Quindi io penso che dobbiamo ritrovare un livello di referenzialità, un referente che non è il fondamento che ci decide tutto, ma è il fatto che noi abbiamo sempre un altrove di referenza a cui ci dobbiamo riferire. Perché se non ritorna a un discorso di profondità, tutto è sullo stesso piano, tutto è uguale, tutto è new age, tutto diventa la stessa cosa, tutto si digerisce in 15 giorni oppure in una gita turistica. Fai la meditazione, 15 giorni paghi e poi ti danno l'attestato che sei un meditatore, ma non scherziamo. Lo dico perché lo so, voglio dire perché mi sto battendo, tra l'altro con l'istituto Zama di Pomaia, che è quello del Dalai Lama, che ovviamente la meditazione è una cosa estremamente complessa, implica un tempo lento che ha poco a che fare con la velocità. Insomma ci sono tutta una serie di elementi che secondo me meriterebbero una discussione per riaprire un discorso per cui le forze politiche andrebbero a mio parere resettate, perché così non credo che abbiamo un grandissimo futuro. Aggiungo, il futuro è scomparso, chi ne parla più? Oggi abbiamo sistemi politici, si vede anche ora, che al massimo ti pongono un problema di obiettivo per fare effetto di un anno. Un esempio italiano, ma è una banalità, la prescrizione. Cavolo, nessuno si pone più il problema di una riforma del sistema giudiziale della magistratura, perché implica molti anni. Chi ci vuole perdere tempo a roba del genere? Quindi ti butti prescrizione sì, prescrizione no. Cioè c'è proprio uno spostamento, c'è un'incapacità di sapere vedere lontano, profondo. Per cui tutto te lo giochi nell'immediato. Ma questo chiaramente alla lunga ci porta ad affondare, ecco una cosa di questo genere. Oppure, e chiudo, a far sì che il futuro ci viene gestito da altri. Quelli che programmano alla grande che cosa bisogna fare e che sanno probabilmente già, se i governi sono ben addomesticati, dove si dovrà investire e che cosa si dovrà investire nei prossimi 40 anni. E questo è un dato profondo, perché i partiti in qualche modo, e i partiti di massa tentavano di ostacolare questo modello. Comunque la si voglia prendere. Anche quelli di destra avevano questo problema. Oggi è sparito. Oggi non è che è sparito il futuro, è sparito il futuro per la maggior parte delle persone. Per alcuni che comandano c'è un futuro libero. La partita è lì, secondo me, francamente.